Si è svolta a Pescasseroli la dodicesima edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce che assegna riconoscimenti a tre categorie di libri scelti da una giuria istituzionale e da una giuria popolare che coinvolge centinaia di studenti in tutto l'Abruzzo. Sono stati premiati Vittorio Sgarbi e Michele Ainis per la saggistica, Paolo De Bernardis per la letteratura giornalistica e Roberto Alaimo per la narrativa. Premio alla memoria a Marco Pannella. Benedetto Croce è stato un filosofo, uno storico ma soprattutto un grande scrittore e il pregio del grande scrittore è la limpidezza e la possibilità di comunicare come pochi riescono a fare ancora oggi e anche oggi scrivendo in modo confuso, avendo idee confuse. Le idee di Croce erano molto limpide, la sua scrittura è molto chiara e quindi vuol dire che siamo stati capaci di essere compresi dai giovani che ci hanno scelti il che è molto positivo per quello che abbiamo scritto e anche in un dialogo che nasce tra il libro e i giovani che lo leggono. Diciamo intanto che quando ho saputo di questo premio la cosa che mi ha fatto più piacere è che il voto è stato un voto di ragazzi, la giuria aveva selezionato dei libri e i ragazzi hanno scelto fra questi libri i ragazzi delle quattro città abruzzesi. Personalmente mi ha fatto molto piacere perché io sono un professore, il mio mondo è quello della scuola e dell'università. Lei ha partecipato a molti premi letterari, a che idea si è fatto del premio Croce di Pesca a Seroli? Sennò l'altro mi ha dato l'occasione di conoscere una parte d'Italia che non conoscevo colpevolmente e dove spero di poter tornare già forse l'anno prossimo in vacanza perché rispetto al resto d'Italia in questi giorni così calorosi devo dire che da voi si sta quasi bene. Pensiamo che anche se apparentemente le questioni su cui lavoriamo magari non sono immediatamente legate alla vita di tutti i giorni ma le ricadute scientifiche sono sempre legate alla vita di tutti i giorni e quindi è bene che il pubblico sappia cosa stiamo facendo.